Siamo tornati da metà con gli Avengers e questo oggi vi facciamo vedere un modo infallibile per diventare Thanos Che potrebbe essere un qualcosa di utile perché normalmente si viene scelti a caso dopo la prima gemma Quindi può essere utile se siete curiosi di provarlo e non ci siete mai riusciti E certo Stef Sarà facile come trovare il guanto di Thanos in una vending machine Tu pensa andando in giro per la città a fare e al posto delle patatine in una macchinetta puoi comprare il guanto di Thanos per sterminare il mondo Sarebbe bellissimo Stef, il sogno di chiunque Per fortuna non capita Fere perché altrimenti non saremo più neanche qui a parlare Voi non potreste più guardare i video perché nel mondo non ci sarebbe più Perché Fere credo che sarebbe la prima cosa che farebbe In ogni caso Fere ho notato che in questa momentà la gente sta iniziando ad uscire Quando non ha ciò che vuole Quindi se non vuole giocare i super eroi esce se ad esempio è negativi Ed è un po' problematico ma noi dobbiamo essere cattivi Infatti siamo 15 e 17 Cioè comunque anche nell'altro team in tanti se ne sono andati via Eh vabbè 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 Non sono mai contente le persone Stef Comunque impegniamoci subito per diventare Thanos Assolutamente Allora la tattica qual è? Noi ci fermiamo in un posto dove ci sono dei geyser In modo tale che non appena la prima gemma sta arrivando Vogliamo immediatamente struttando i geyser E di conseguenza riusciamo ad arrivare per primi in assoluto alla gemma Si diventa Thanos e a quel punto poi vi faccio vedere un'altra strategia infallibile Per diventare ancora più forti Sì perché Fere le ho pensate tutte e mi sono studiato le peggio strategie La cosa interessante comunque è che finalmente hanno reso più debole Iron Man Quindi adesso Iron Man non fa troppi danni Giustamente Da 45 a 35 a colpo che non è poca roba Hanno potenziato un po' un'abilità di Thanos E hanno reso un pochino più scarsi anche i soldati dell'esercito Che adesso aumentano meno di vita quando si prendono altre gemme Quindi diciamo che come pensavamo Sono d'accordo Hanno bilanciato un po' di roba E' quello che abbiamo detto subito nella live C'era appunto bisogno di ribilanciare questa modalità E così infatti è stato fatto Esattamente Allora io mi fermo a questi geyser Adesso devo stare prontissimo Tanto secondo me non c'è neanche troppa gente che vuole diventare Thanos Anche secondo me Quindi ti va pure bene Noi otteniamo sempre il salame Quindi secondo me non c'è troppa gente che vuole diventarlo E non credo che avremo grossi problemi Nel mentre mi prendo materiali perché non c'è nulla da fare All'inizio bisogna aspettare Eh pure io Tanto bisogna aspettare la prima gemma Quindi si sta qui un pochettino a formare Sai qual è la strategia successiva Fere? Dimmi Invece che andare alla carica con Thanos Aspetto che vengano prese un po' di gemme Ok? Ah sì E vado all'attacco solo quando avrò già un bel po' di potere Perché tanto all'inizio è abbastanza scarso E in effetti tutti poi ovviamente si buttano all'attacco Presi dal fatto di essere i primi Thanos Comunque ci siamo Stef Sì E infatti vengono sconfitti subito volevo dire quello Allora è lontanissima da noi Ok Ci è andata molto male Mi sa che il nostro pieno sarà fallito Oh cavolo Dall'altra parte Cioè posso capire Geyser Però porca miseria Stef È andata male Dobbiamo riniziare il match Fere Però faremo finta che ci siamo riusciti Quindi ecco come diventare Geyser nella mappa Geyser nella mappa va bene Ci vediamo in un prossimo match Altra tecnica se siete un po' lontani dai Geyser È quella di aprire immediatamente il deltaplano E aspettare che arrivi la Gemma Nel mentre vi mettete belli al centro della mappa Così se non avete la sfiga divina E dovete andarvi a fare benedire Tipo Stef a cui capita spesso di avere sfiga Dovrebbe andarvi tutto bene Se poi fate addirittura supporta creator Stef2317 nello shop Che dura 14 giorni Soprattutto quando vi comprate le nuove skin dei supereroi Così Stef è super mega contento Allora la fortuna per diventare Thanos Aumenterà addirittura Quella per una tantica segreta A parte gli scherzi Fere Secondo me questa volta ce la facciamo Dai spero di sì Stef Altrimenti le tue tecniche sono un fallimento Scusami eh Tu sei un fallimento Eh no dai Comunque quella dei Geyser è buona Perché in live ci eri riuscito Mi ricordo che avevi preso subito i Geyser Primo tentativo Fere Esatto Ok? L'hai visto? Ok Lontanissima Sì 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 Ovviamente è sempre dalla parte opposta Rispetto a dove siamo noi Stef La prendiamo La prendiamo No è pieno di gente lì Ma perché c'è già la gente lì? Ma che fortuna sfacciata puoi avere nella vita? Ma che ne so Perché sono scesi tutti assolti Stef Ovviamente è la prima città Io ho detto facile come prendere le cose nelle macchinette Ma non ho specificato che sono macchinette Che invece che chiederti gli euro Ti chiedono le lire Devi tornare nei musei per trovare le lire e comprare le cose Non l'avevo specificato Fere Comunque riproviamo Ti prego Devi essere il più veloce Stef Fere c'è un tizio più vicino Però ce la posso fare Lo vedo lo vedo lo vedo Corri Stef Sto facendo un landing perfetto Tizio ti giuro Ti do 5 V-Bucks Fai da bravo Almeno di 500 Stef Fai da bravo C'hai fatta? Stef? L'ha preso lui Muori! 8 contro 19 Gioco Fammi prendere quella gemma Basta Basta È abbastanza imbarazzante già così Stef Non devi continuare Ok A far finta che sia ancora possibile Ovviamente nella zona dove ci sono loro Ovviamente Stef Come sempre Sembra fatto apposta Che cada nel punto dove ci sono più persone Però Sono in vantaggio Ce la fai? Ce la faccio Ce la faccio Allora nei altri due Io ti osservo Che però sono leggermente dietro di te Stef Quindi vai Sei il primo Sei il primo Sei il primo Sì Mi fai reschiattano Loro sono a piedi Tu stai volando Quindi sei più veloce Stef Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Inciampate! Ce l'hai fatta? Dai sì Ce l'hai fatta Loro arrivano a piedi Quindi Oh Finalmente la tattica Per diventare Thanos Al cento per cento Come vedete Infallibile Funziona Giustamente Venti minuti Ci abbiamo messo Zitto Stef Non devi dire i dettagli Venti minuti davvero Dietro ogni grande impresa Stef Ci sono tanti fallimenti Che ovviamente Non vengono svelati Siamo rimasti in sei Come in sei? Siamo sei contro diciassette Bene Ovviamente raga La gente siccome sta arrivando Da questa malità Perché qualche giorno fa I supereroi Erano troppo più forti Dei cattivi E quindi La gente Non sapendo che hanno Sistemato un pochino Le cose Continua ad uscire Quindi questa è la situazione Che si è formata Stef non ce la farò mai A prendere la gemma Mi stanno distruggendo E sono sola Eh Lo so Eh sono sola E fa schifo Thanos Con una gemma Ovviamente Cioè non è venuto nessuno A difendermi Ho capito che siamo Quattro Ma non ci sono neanche Quei quattro Stef Eh no No Mi dispiace dirtelo Ma no La gemma viola Sta cadendo a fianco La gemma verde Che bello Che bello Questo è ancora fermo ragazzi Guardatelo È ancora lì Fermo Che non si muove Tu sei morta come Thanos Certo Stef Erano in dieci Almeno tornerò come Thanos A breve Eh che dovevo fare Ci serve Ecco qua Che sfiga Mo' ci manca Mo' ci manca solo che capita Con l'fk Thanos E spacco la tastiera Mi spacco la faccia E spacco il monitor No è morto quello Stef È morto Sì è morto ma torni in vita Quindi è fermo E in questo punto Oh cavolo Se l'ho visto Cercando di andare A prendermelo Alla prossima gemma Anche io Già se prendiamo Alla prossima Siamo messi un po' meglio Ci dobbiamo arrangiare Sai Sto provando a sparare A distanza Allora Ok Mamma mia Vi massacro Supereroi schifosi Quello è saltato via Allora uno l'ho fatto fuori Oh piccione Stef stanno arrivando tutti qua Io ci posso anche provare Però è pieno di gente Aspetta che sto a litiga Con i piccioni 25 di vita Non ce la posso fare Stef Sono tanti Lo so Poi guardali come si muovono Mamma mia Li odio Non li sopporto Dannati supereroi Papapapapapapapapapapapapa Eh mi stanno assalendo In tantissimi Sto anche resistendo Ma sono tanti Ma poi non è venuta Nessuna a cercare Di prenderla No Sono tutti mollati Aia Che male Per resta andando meglio Certo Stef In quale universo In un altro Magari parallelo In cui le cose vanno Diversamente Però ne abbiamo tre adesso Quindi il nostro Tano si inizia A essere un po' più forte Guarda che interessante Il fatto che Ha così tanto Perché su Thanos Per la terza volta Perché stiamo facendo vedere Come diventare Thanos È normale Sono tranquillissima Mi posso camperare Non c'è spuglio Scusate C'è la gente Che mi mira Mentre scendo Sono diventato Un bersaglio mobile Siete dei pazzi criminali Non siete dei supereroi Voi Siete peggio di Joker Stef Non riesco a stare È Thanos Per più di due minuti Comunque È vergognosa Ma due minuti Sei stata gentilissima È vergognosa Perché ovviamente Ti vedono arrivare Vanno in dieci E tu ovviamente Non hai difese Non sei ancora forte Non puoi fare nulla Cioè lo so che Ultima ridirla Ma io vi ho preso un'altra Guarda che ce ne mancano due L'essere in pochi Sta funzionando Stef Piano piano Un tastello alla volta Qualcosa si combinerà Sta funzionando Perché non perdiamo vita Perché siamo troppi pochi Quello è vero Quello è vero Ok Basta Ma poi non ti sembra Che sono diventati Troppo poco deboli I cattivi Stef Sì hanno forse Dagiato un po' A me distruggono Mi danno un colpo Mi hanno squagliato Però adesso voglio vedere Il prossimo Thanos Spacchettare E che cavolo Sarebbe anche ora Ok Sto cercando di billare un po' E sta funzionando Stai cercando di Billare un pochino Sta risultando molto utile Per durare un pochino Beh ovviamente Un svantaggio numerico così grande Mi sembra la cosa migliore da fare Prossimo Thanos Spacca Dimmi che non sei tu No Dimmi che non è quella FK Io non lo sono più diventato Incredibile Oggi c'è una sfortuna nera Io arrivo Tipo un Yamatsu Due tre E poi muoio Mi succede sempre così Dov'è? Qui Sì vabbè ma questo mi ha preso Con un ceffone Con lo scudo Non puoi atterrare Non puoi atterrare Io non so come hanno fatto A prenderne due comunque Cioè sono stati dei ninja Perché io Io non riesco a toccare terra Dov'è il nostro Thanos? È già morto vero? No Penso di sì staff Non lo so No è appena tornato credo Io sono andata alla gemma blu Ne ho ucciso uno Ma ce ne erano troppi E poi ovviamente mi hanno ucciso Eh come faccio? Io ci sto provando A prendere le gemme Ma sono agguerritissimi Fere Io sono tre o quattro volte in fila Che non posso toccar terra Letteralmente Cioè che I miei piedi toccano terra E sono già morto Sì 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 Pure io Pure io Pure io Adesso sta finendo così Aspetta c'è Thanos Che cerca di prendere la pietra blu Bravo Ha fatto un po' di macello lì in mezzo Secondo me la presa La presa La presa La presa Ce l'ha fatta Dai Thanos Raga abbiamo 31 vite Per fare l'ultima Grande Thanos Mamma mia Io vi voglio sterminare Non ho mai provato un sentimento del genere In vita mia Ah Ok Ok Ne sono schiattati diversi eh Sì io sto cercando di tenere occupati Qui un po' di persone La vinciamo eh Mentre uno sta cercando di prenderla Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta La vinciamo Ho distratto un pochettino La vinciamo Steph Non mi interessa I cattivi avranno lo meglio Anche No i cattivi sono quelli dell'Epic Games Guarda Sì sì In un'inferiorità numerica Imbarazzante siamo Guarda che continuo a morire Ok Però abbiamo ancora tante vite Per essere così pochi Abbiamo ancora tante vite Te l'ho detto che funziona È totalmente È sbilanciatissima questa cosa Abbiamo giocato a morire E vinciamo perché siamo morti È sbilanciatissimo È proprio Non ha minimamente senso Quello che hai appena detto Sei controtto Ti rendi conto? Non ha senso ed è così Ti rendi conto? Non ha proprio senso È così Abbiamo vinto Siamo sei controtto Abbiamo vinto Quindi adesso loro se muoiono Muoiono per sempre? Sì infatti sono in massino 8 Siamo tornati Siamo a paeta numerica adesso Quanto vi spacco la faccia adesso Guarda eh Ti conviene correre Guarda maledetto Ma io spero che piangete tutti Ok Infami per voi sono le lame Wow Uno fatto fuori Adesso non torni Per rompermi le scatole Vero? Anche tu con lo shield Di capitano america Adesso fai solo una brutta fine Mamma mia Sti piccioni Li avranno tolto danno Ma rimangono dei piccioni Sono d'accordo Steph Thanos è morto Fammi tornare come Thanos Fammi finire come Thanos Ti prego Ti prego Me lo merito Ho sopportato troppo tempo Sono d'accordo Due vivi di loro Ok It's the end Uno 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 Ah no comunque Thanos Ce l'abbiamo ancora in vita Sì 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 Si è nascosto l'infame Ah è morto È morto È morto Lo vediamo tanto Io non ci credo Che abbiamo vinto così Sei contro 17 E mi prendo anche l'ultima kill Cioè è stata una delle cose più strane Quasi imbarazzanti Steph Che abbiamo visto Cioè eravamo in un'inferiorità numerica Incredibile E abbiamo vinto proprio perché non finivamo le vite Essendo troppo pochi Cioè questa cosa non ha minimamente senso Steph Però ci siamo portati a casa una vettoria Grazie Epic Arrangati tu con le tue modalità Noi ce la siamo vinta Wow Bellissimo Sono quasi emozionato In ogni caso Sto per piangere guarda La tecnica ha palesemente funzionato Ci abbiamo messo 20 minuti a diventare Thanos Quindi mi sembra un buon modo Ferri è diventata tre volte a caso Quindi direi No perché era il fatto Steph Che io ho messo il supporto a creator Steph Come tu hai detto in inizio video Ok E quindi ovviamente su 6 Era ovvio che tre volte capitassi Io perché ero l'unica ad avere supporto a creator Mi sembra giusto Quindi tutto normale Tutto normale In ogni caso speriamo che in qualche modo Vi sia piaciuto questo video Scusate ragazzi Scusate L'hanno sbagliata Perché non abbiamo molto altro da dire Era simpatica e divertente Però purtroppo fatta così non lo è Se ci mettessero tutti gli oggetti in creativa Potremmo creare di meglio da soli Quindi grazie Epic Se almeno quello che avete creato Ce lo date tra le mani Esatto Così facciamo qualcosa di decente In ogni caso ci fermiamo così Qua sotto come sempre Come per altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao